Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Tantissima gente ai funerali dell'operaio morto alla Profiglass A fuoco alcune sterpaglie sulla E78, forse un mozzicone di sigaretta Riaperto al traffico il ponte di Chiaruccia, resta però il divieto per i camion Scontro tra due furgoni, quello dei surgelati si ribalta, feriti i due conducenti Parte da Fanno il tour di Patrizio Roversi e Susie Bledi, testimonial dell'associazione Genitori Sindrome di Williams Buonasera Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia Erano centinaia e centinaia le persone che questo pomeriggio a Santa Maria Goretti e Sant'Orso Hanno voluto tributare l'ultimo saluto all'operaio della Profiglass di 49 anni, Rodolfo Cangiotti Morto in un incidente sul lavoro I migliori anni della nostra vita A questa canzone del suo idolo che gli amici di Rodolfo Cangiotti affidano tutto il senso di questo terribile giorno Il giorno del commiato, dell'ultimo saluto all'amico, al collega, all'uomo Magliette bianche con su scritto Ciao Dodo e il titolo della canzone indossate dai colleghi di lavoro e dagli amici Oggi pomeriggio sul sagrato della chiesa di Santa Maria Goretti a Sant'Orso e dentro la chiesa Con gli sguardi pietrificati che fissano il feretro su cui poggia una di queste t-shirt Come voler dire, sei qui con noi Don Giorgio Giovannelli affida allo strumento della fede il mezzo per comprendere il significato della ressurrezione e della vita eterna Le nostre menti, dice il sacerdote, non sono sufficienti per comprendere La nostra mente è sgomenta e da sola nel cercare una risposta a tutto questo Ed allora, come occorre un microscopio per vedere ciò che la mente non percepisce Così la fede ci viene incontro ed è lo strumento giusto per comprendere Ora Rodolfo prega per noi accanto al nostro Signore Ora il suo essere non trema più, è tutto attorno a lui Una chiesa di Sant'Orso piena e stracolma di persone Anche il sindaco di Fano e la famiglia Paci Che ha chiuso per oggi lo stabilimento della Profiglas in segno di lutto Persone che lo hanno conosciuto ed apprezzato come lavoratore Che hanno passato, se non gli ultimi anni, i migliori momenti della loro vita E volevano ringraziarlo per il dono che Rodolfo aveva di rendere tutto allegro e gioioso Tutti stretti in un grande abbraccio attorno alla famiglia, ai parenti, alla moglie Katia Ed al figlio adolescente a cui è venuta a mancare una figura così importante In un momento così delicato della propria crescita A due lettere, lette a cospetto del feretro, viene affidato il ricordo di Rodolfo Una del suo inseparabile collega di lavoro che ricorda il caffè Preso pochi minuti prima del tragico incidente E l'altra del suo amico di vita, col quale tutto si è condiviso Dagli spettacoli, i capodanni passati insieme, ai momenti spensierati Poi come riniziato, questo pomeriggio lo si conclude I migliori anni della nostra vita Non in scritta, ma in note Per chiudere il portellone dell'auto Ma la voce non è quella di Zero, ma quella di Rodolfo E poi tanti palloncini bianchi prendono il volo Tutti bianchi, tranne uno Un cuore rosso con attaccato una pergamena Lì c'è l'ultimo saluto di suo figlio Alessandro E probabilmente di natura dolosa L'incendio che la notte scorsa ha completamente distrutto il bar 100 vetrine a Morciola Già preso di mira dai ladri una settimana fa I ladri erano riusciti a entrare nel locale Rubando 10.000 euro Tentando poi di dar fuoco al locale Senza però riuscirci L'altra notte invece le cose sono andate diversamente E le fiamme hanno distrutto il locale E a fuoco sono state anche alcune sterpaglie Lungo la E78 Questo pomeriggio poco dopo le 16.30 Vediamo cosa è successo A volte basta poco Una disattenzione, una distrazione e succede l'irreparabile Non è la prima volta che ettari ed ettari di macchia mediterranea Vanno in cenere per una distrazione Un mozzicone di sigaretta buttato distrattamente Le alte temperature L'erba secca che come paglia Prende fuoco in un niente Ed è successo l'irreparabile Forse è andata proprio così oggi pomeriggio Lungo la superstrada Fano Grosseto Poco prima dello svincolo per imboccare l'autostrada Con un'automobilista distratto E dove si era formata una coda Per un trasporto eccezionale Le aride e secche sterpaglie Lungo il guardrail che divide le due corsie Hanno preso fuoco Una ventina di metri Che hanno intorno alle 16.30 Creato subito un denso fumo biancastro Che ha investito le corsie In entrambi i sensi di marcia Ed è stato proprio un'automobilista di passaggio Da avvisare i vigili del fuoco Di una situazione di estremo pericolo Una squadra di Fano E' subito arrivata sul posto Con due mezzi Ed ha iniziato le operazioni di spegnimento Dei focolai Che sono durate pochi minuti Il tutto sotto gli occhi dei passanti Dato che la prontezza di riflessi E la professionalità della squadra Ha consentito di effettuare in sicurezza Tutte le operazioni Senza però chiudere al traffico Il tratto di superstrada Con le disastrose conseguenze Che questo ne avrebbe comportato E rimaniamo sempre in zona Perché è stato riaperto al traffico Il ponte in località Chiaruccia di Fano Che collega via Lucchino Visconti Con la strada comunale Chiaruccia La struttura era stata chiusa Il 23 maggio scorso Dopo la segnalazione di alcuni calcinacci Che erano caduti sulla sede stradale E per i quali era stata disposta La chiusura del casello di Fano Della 14 Sul ponte però Resta il divieto di transito Per i camion Incidente a bellocchi di Fano Poco dopo le 20.30 Di ieri davanti al falcinetto park Per cause ancora al vaglio della stradale Due furgoni Uno dei quali della ditta Bofrost Che per le conseguenze dell'urto Si è rovesciato sulla carreggiata Si sono scontrati all'altezza Dello svincolo per la superstrada Alla guida dei due mezzi C'erano un uomo di 66 anni Residente a San Costanzo Ed un ventottenne di Senigaglia Che sono stati trasportati Entrambi al pronto soccorso di Fano In codice giallo Per accertamenti Sul posto Oltre al 118 Anche una pattuglia Della polizia stradale di Cagli Cambiamo decisamente argomento Parliamo di giovani Sono davvero una generazione smarrita Vediamo che cosa ci dice In questo servizio Fabrizio Naticchi Si dice spesso che i giovani Non sono più quelli di una volta Sfiduciati, incerti E entrati in uno stato Di precarietà esistenziale Dovuto alla mancanza di opportunità Specialmente nel nostro paese Una generazione spaccata In contrasto con quella precedente Molto spesso annoiata Che si esprime con i post Sui social network A testa bassa E smartphone in mano Allora io non è che esco molto la sera E i ragazzi secondo me Devono essere un pochino più controllati E' vero che se uno esce la sera Non è che può essere controllato Dal genitore Io farei qualcosa di più Giù al Lido Perché sinceramente Non è che ci sia molta roba Nel senso Aprono sì bar Le cose così Ma eventi in generale Non ce ne sono più di tante Una continua ricerca di trasgressione Facilitata dall'annullamento Di barriere e confini Grazie al web Che permette di avere tutto E ovunque E che fa perdere il senso reale Della vita quotidiana Se non supportata Da attività che permettono Un confronto diretto Un contatto fisico Una serata in compagnia Ci sarebbe forse da fare Qualcosa come questa mostra Che ha fatto Sgarbi Che tra Fano, Pesero e Urbino Sta tirando Speriamo Molte persone Ecco cose del genere Alla portata di tutti Sarebbe meglio Guarda secondo me Ci vorrebbero Ci vorrebbe più Qualcosa di più per i giovani Secondo me Così la cronaca Sempre più spesso Ci racconta di episodi Di violenza Minorenni ubriachi Per strada E in casi estremi L'autolesionismo Che a volte Può essere fatale Io abito in città Non ho mai Sentito appunto Schiamazzi Cose così Quindi No guarda Io ti direi che in centro Anzi Mi sembra Tutto bello E tranquillo Io vengo da Bologna E penso che Sì Ogni proporzione Sarà così Però Per quanto si sa Nelle grandi città Alla N Qui Ancora Non sembra Tanto Tanto grave E si è spenta 84 anni Ad Ancona Cristiana Borgogelli Acqua Molto nota in città Per la sua attività Di beneficenza Moglie del commerciante Di prodotti petroliferi Roberto Acqua Proveniva da un'antica Famiglia di Fano E si era stabilita Ad Ancona Appena ventenne Dopo il matrimonio Aveva cominciato La sua attività Di volontariato Nella Croce Rossa Italiana Nel 1999 Lasciò il Salesi Per dedicarsi All'Unicef Di cui fu Presidente regionale E provinciale Lascia oltre al marito I figli Giacomo E Federica Giornalista dell'Ansa E i nipoti I funerali Saranno celebrati Sabato 17 giugno Alle 9.30 Nel centro Polifunzionale Di Petra la Croce Cambiamo argomento Parliamo di musica Perché torna a Fano La festa Della musica europea Tutte le musiche Saranno rappresentate Dal jazz Alla musica popolare Alla musica barocca All'indie Alla musica elettronica All'hard rock All'country Insomma E questo è nello spirito Reale Della festa della musica Che in pratica In tutta Europa Consegna I monumenti I centri storici Ai musicisti Di ogni età E di ogni livello artistico Per appunto Mettere in scena Questa festa Che da tanti anni Assume Una caratteristica Molto molto intensa Con milioni di ascoltatori Che gioiscono Del talento Dei musicisti Una manifestazione europea Con lo scopo Di riempire le strade Le piazze Le biblioteche E i musei Nelle 330 città italiane Aderenti Si sono già iscritti Circa 27 mila artisti Talenti emergenti E non solo Proprio i giovanissimi Prenderanno idealmente In consegna Piazza 20 Settembre E altre zone del centro storico Rendendo magico Il rituale dell'aperitivo Atmosfera rinascimentale Barocca Invece Ai giardini leopardi Mentre il blues E il rock Saranno protagonisti Al Lido E alla Sassonia Il tutto Sarà immortalato Da centrale fotografia Che con il concorso Una foto Per ogni musica Premierà gli scatti Che meglio Evidenziano l'anima Di ogni diverso stile musicale E che verranno pubblicate Sul sito dedicato Bene Più peso In Confindustria Nazionale Per le Marche È il primo risultato Della nascita Di Confindustria Marche Nord Aggregazione Delle associazioni Di Ancona E Peso Urbino Che rappresenta 900 aziende 50 mila addetti E il 60% Dell'industria marchigiana L'approvazione Del progetto Ha garantito Due rappresentanti All'Assemblea Per il Consiglio Generale Di Confindustria Il prossimo 20 giugno Ci sarà Un nuovo incontro Ed ora Tutti quanti Li conosciamo Si chiamano Patrizio Roversi E Susi Blady Turisti per caso Velisti per caso Insomma Hanno anche una rivista Sono in questo caso Però Dei testimonial Per i genitori Della sindrome Di Williams Hanno illustrato Questa mattina Il loro progetto Sentiamo Di che cosa si tratta È considerata Una malattia rara Che colpisce Un neonato Su 20 mila Ma è ancora Poco conosciuta Così da non suscitare Particolare attenzione Nelle case farmaceutiche Per la ricerca È la sindrome Di Williams Una patologia genetica Di recente scoperta È riconoscibile Dai particolari Tratti somatici Che caratterizzano Chi ne ha affetto Ma che In compenso Ha una grande Socievolezza E una loquacità Spiccata Due i casi Riconosciuti Al momento a Fano Anche se la diagnosi Non è per niente Semplice Indubbiamente È un progetto Impegnativo Sotto tante forme Però Anche come divulgazione Eccetera Ma spero che Grazie anche a voi Il vostro intervento Ci riusciate A darci una mano A divulgare Questa malattia Che cos'è La sindrome Di Williams Siccome si fanno Diagnosi precoci E far capire Che al mondo I ragazzi Con visibilità Possono essere Una risorsa E non un peso E proprio per dare Visibilità A questa sindrome Alcuni genitori Si sono uniti In un'associazione Che è l'organizzatrice Dell'evento The Williams Tour Italia Con la collaborazione Del team Di Adriatica L'imbarcazione Costruita a Fano Con nomi illustri Come Patrizio Roversi E Susi Bladi Conduttori Del programma Velisti per caso Adesso questo discorso Con la sindrome Di Williams Calza a pennello Perché Adriatica Diventa il pretesto Per Una operazione Mediatica Soprattutto Sulla sindrome Di Williams Ma non solo Cioè far capire Che cos'è Pubblicizzare Questa Malattia Cosiddetta Rara Che tanto Rara Non è Ma anche Creare un momento Di relazioni Collettive Gli scopi Sono tanti Innanzitutto Questo gruppo Di ragazzi Che salirà In barca Si darà il cambio In barca Primo scopo Avere delle buone Relazioni Con gli altri Con il mare Imparare delle cose Altro scopo Ci saranno A bordo Dei medici Che studieranno Le loro reazioni E quindi la ricerca Avrà un impulso Lo scopo fondamentale È fermarsi Nei vari porti E fare delle conferenze Chiamare della gente E quindi raccontare Questa malattia rara Che spesso Non è diagnosticata In tempo La prima edizione Partirà il 22 settembre Da Genova E coinvolgerà Nei 39 giorni Di navigazione 20 giovani Affetti dalla sindrome Che toccheranno 11 porti italiani Fino ad arrivare Il 30 ottobre Nella città della Fortuna E saremo lì Ad attenderla Una notizia Che è stata divulgata In queste ore Non c'è stata però Alcuna scossa Di terremoto Magnitudo 5.1 Questa mattina In provincia di Macerata L'indicazione Del sismo È apparsa Sul sito Dell'Istituto Nazionale Di Geofisica E Vulcanologia Per un errore tecnico E poco dopo È stata cancellata In realtà Alle 5.17 La scossa Realmente avvenuta È stata di Magnitudo 1.6 Con epicentro A un chilometro A nord Di Pieve Torriana In provincia Di Macerata Bene Dopo di noi Dopo questa edizione Di Occhio alla Notizia Andrà in onda Uno speciale Sulle prove di saggio Della scuola di danza Vaganova Io mi fermo qui Questo è tutto Per questa sera L'informazione Torna domani mattina Alle 7.30 Con Occhio ai giornali E poi domani sera 20.30 Occhio alla Notizia Buonasera a tutti voi Buonasera a tutti 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 Grazie.